Ampia discussione in Consiglio regionale sulle varie mozioni riguardanti il settore della sanità, tra le quali le interrogazioni contrattuali con le strutture private accreditate. Un contrasto netto tra maggioranza ed opposizione è concluso con il voto che rinvia la discussione. L'ordine del giorno del Consiglio regionale ha proposto sette punti, sette mozioni variamente a firma dei consiglieri di opposizione e tutte riguardanti il settore della sanità. Tra le mozioni ce n'era una per la quale si è aperta una nervosa ed abbastanza lunga discussione, vertente sulla necessità o meno di rinviare la discussione e dunque l'analisi e l'eventuale approvazione. Il punto ha riguardato l'integrazione dei contratti 2023 per l'acquisto delle prestazioni delle strutture private che operano in regime di accreditamento di prestazioni sanitarie, di assistenza ospedaliera e specialistica ambulatoriale, appunto per l'anno 2023, oltre ai nuovi accordi per il 2024. Naturalmente si è giunti al voto il cui risultato ha visto la maggioranza compatta su un rinvio che è stato dunque approvato. Nell'ambito della discussione il Consigliere Massimo Romano ha parlato di una palese confusione istituzionale. Magari fosse solo un problema di comunicazione o di mancata intesa su delle singole questioni. Qui c'è proprio un caos istituzionale che purtroppo ormai è sotto gli occhi di tutti ed è inutile negarlo. Non c'è alcuna forma di rapporto istituzionale tra livelli decisionali. La struttura commissariale adotta una bozza di piano. L'indomani mattina il Presidente della Regione ne prende le distanze. Si viene in Consiglio regionale per discutere di questi argomenti che riguardano la vita di tutti i cittadini e si nega addirittura la discussione invitando a rinviare non si sa a quando. Insomma da questo punto di vista io credo che le uniche vittime di questo Stato confusionale che purtroppo alberga nella maggioranza di governo sia regionale che nazionale siano soltanto i cittadini utenti del servizio sanitario. Noi oggi proponevamo che cosa? Proponevamo di disciplinare i rapporti con gli erogatori sanitari privati, di disciplinare e di dettare delle linee chiare in materia di programmazione e di organizzazione sanitaria nel rapporto tra pubblico e privato sulla maggiore qualità dei servizi. Perché oggi si è dovuta rinviare la discussione? Perché si aspettano quattro mesi per affrontare questi temi nell'unica sede possibile che è quella del Consiglio regionale e addirittura si viene e si chiede un differimento? Allora il problema non è il differimento di un giorno o di due giorni, il problema è politico. C'è la volontà di negare il dibattito per informare i cittadini su quelle che sono le cause reali del disastro che c'è oggi nell'organizzazione sanitaria regionale e questo a mio avviso non è più tollerabile.